Buonasera amici di Sportme, per un nuovo appuntamento sportivo si affrontano Ramses e Ressole Subito i Ramses con questo mancino da fuori, bravo il portiere del Ressole Ressole che prova a riconquistare e qui la sfera ci riesce, in questo caso vinci guerra, vinci guerra Va col mancino che si perde però sul fondo Ancora Ressole, possesso palla, verticalizzazione in zona centrale e top in vincente di D'Angelo 0 a 1, si sblocca subito il match Ancora Ressole, prova a riconquistare la sfera, mancino dalla distanza che non c'entra la porta Ancora Ressole, verticalizzano sul settore di destra, c'è al centro vinci guerra Che realizza lo 0-2, vinci guerra I Ramses provano a rispondere con questo destro da fuori, potente ma impreciso Ancora Ressole, perdono qui un brutto pallone, destro di Tracanelli e 0-3 Ancora Ressole, destro dalla distanza, non c'entra la porta Il Ressole non si accontenta, cercato vinci guerra Che realizza la sua personale doppietta, termina così il primo tempo Seconda frazione, che inizia con Pellegrino, che prende la mira e spacca la porta Pellegrino, 0-5 Ancora Ressole, pallone in zona centrale Termina sul fondo, non ci stanno i Ramses, pallone verticalizzato qui sul centro-destra Che si perde sul fondo Il Ressole prova a creare una nuova occasione E arriva Tracanelli 0-6 Doppietta anche per Tracanelli Il Ressole non si accontenta Destro dal limite dell'aria Gran parata del portiere Ancora Ressole Cercato in questo caso D'Angelo, che con il mancino riesce a realizzare lo 0-7 D'Angelo Anche per lui doppietta Ancora Ressole Pallone a cercare vinci guerra Che segna e realizza la sua personale tripletta I Ramses qui ci provano dalla distanza, tentativo che si perde sul fondo Ancora Ressole Cercato vinci guerra Che con il tocco sotto realizza il suo poker personale 0-9 Ancora i Ramses provano a creare un'ultima occasione Pallone che termina sul fondo E termina 0-9 Ancora i Ramses provano a creare un'ultima occasione